Ciao Stefano. Ciao Claudio. Senti una cosa, un'abitudine che vedo in giro è quella di usare le deleghe o le delibere del CDA o chiamarle come vuoi per scaricare la responsabilità sul preposto, sottoposto, sul dirigente che sta sotto... cambiare l'organigramma delle responsabilità. La certificazione OHSAS aiuta in questo o è un falso mito? Allora, diciamo che le certificazioni, quindi non solo quella relativa alla sicurezza, che è l'OCSAS 18001 che adesso diventerà ISO 45001, permettono di definire le responsabilità all'interno dell'organizzazione, perché se vogliamo tutte le organizzazioni per tenere sotto controllo i loro processi hanno bisogno di attribuire correttamente competenze e responsabilità al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività, dei processi e quindi di tutti gli adempimenti che ne conseguono. Quindi, se vogliamo, si parla parzialmente se vogliamo di deleghe, ma invece è più corretto parlare di una gestione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione. Sempre tenendo considerazione, e questo è ribadito soprattutto nell'ultima edizione della ISO 45001, che l'alta direzione mantiene comunque la responsabilità finale su tutto il sistema di gestione. Quindi, è corretto che l'alta direzione distribuisca queste responsabilità per essere più capillare nel tenere sotto controllo i processi e le attività e tutto ciò che ne consegue. Però, di fatto, è sempre l'altra direzione che ne risponde in ultima analisi, anche perché, se vogliamo, è la testa pensante dell'organizzazione. Sì, è quello che conduce e alla fine comanda veramente lungo tutta la filiera dell'organizzazione. Ok, ciao a tutti!